Ondata di maltempo in Abruzzo, freddo, neve e raffiche di vento su tutta la regione con fenomeni più severi nell'entroterra. Nella serata di ieri è stato dichiarato il codice rosso per la situazione riscontrata sull'A14 con il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Disagi chiusi al traffico per le abbondanti precipitazioni, la statale 17 della Penina Abruzzese dal chilometro 107 al 149, la statale 5 Tiburtina Valeria dal chilometro 135 al 155, traffico rallentato per il nevischio sulla statale 714, tangenziale di Pescara dal chilometro 0 al chilometro 5 e 6. Nella mattinata è stata comunicata la chiusura dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo fino alle 13, problemi di circolazione anche per la società di trasporto Unico Tua, che nella serata di ieri ha comunicato l'interruzione delle corse per Torricella, Pizzoferrato e Monte Nero Domo per la provincia di Chieti e per Isola del Gran Sasso dove un bus ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Forti nevicate nell'Aquilano, sul mona 60 centimetri di neve, un metro a Roccaraso e neve in tutti i comuni della Valle Peligna. A Roccaraso si circola con gomme termiche o catene, a lavoro mezzi spargisale, ma si prospetta un weekend soleggiato e pieno di neve per gli impianti sciistici. Impiancata anche la costa pescarese, che non ha riscontrato particolari criticità per la viabilità, tranne le segnalazioni riguardanti i detriti portati dalle forti raffiche di vento. Problemi invece per i colli, dove ieri si è registrata la temporanea interruzione del servizio elettrico e la formazione di ghiaccio nelle strade interne. Chiusi con un'ordinanza da ieri e fino al prossimo 7 gennaio, parchi, cittadini e cimiteri per evitare la caduta di rami. L'autostrada che collega l'Aquila e Pescara con Roma è percorribile solo con dotazioni antineve. A Lanciano il ghiaccio è il maggior pericolo riscontrato nella mattinata sull'intero comprensorio frentano. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia per le auto in panne. 10 cm di neve in centro e 25 nelle zone alte. A Tessa ha raggiunto quota 50 cm di neve, che raggiunge il metro nel medio-alto sangro come Pizzoferrato, Monteferrante, Schiavi d'Abruzzo e Castiglione-Sermarino. Nevicate abbondanti anche sul Terramano, dove operativo il piano neve della provincia di Teramo, che rende nota la presenza di 44 mezzi privati, contrattualizzati con il servizio a chiamata e monitorati con il GPS, che consente tracciabilità dell'operato e razionalizzazione negli interventi. Particolare attenzione, viste le previsioni meteo, è dedicata alla costa, dove i cittadini sono meno abituati ad affrontare buferre di neve. Presidiata tutta la montagna e in due zone, le provinciali che conducono agli ospedali di Atri e Sant'Omero, sono previste postazioni fisse per far fronte ad eventuali situazioni critiche. I mezzi dell'ente presidiano la 259 della vibrata. Grazie.